Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il casato dei lupi. In questo video guida voglio spiegarvi come poter uccidere abbastanza facilmente il boss, il boss finale si intende, dell'ultimo round della prigione degli anziani a livello 32, ossia Traug. Questo boss apparterrà alla fazione dei Cabal e non sarà altro che, come lo chiamo io, un tacchino gigante. Avete presente Valustaurc? Avete presente l'altro boss simile a Valustaurc che si trova nella missione del Pinnacolor, in una delle ultime su Marte? Ecco, sarà identico. E per chi non l'avesse capito lo chiamo tacchino perché la cosa che c'è dietro la testa sembra tanto la coda dei tacchini, quindi tacchino! In ogni caso questo boss lo dovrete affrontare ovviamente nell'arena dei Cabal, arena caratterizzata non in essere troppo troppo estesa, almeno non alla pari di quella dei caduti ad esempio, ma essendo molto compatta e in certe occasioni lo spazio di manovra sarà veramente molto molto poco e quindi dovrete stare attenti nel muovervi a non venire traviati da tutti i centurioni, da tutti gli psionici che si trovano in quei passaggi. Le difficoltà principali che si incontrano affrontando questo boss sono ben due. La prima sta nel fatto che i Cabal sono veramente tantissimi durante lo scontro e se non state attenti vi chiuderanno da tutti i lati e vi ammazzeranno, questo anche perché hanno moltissimi attacchi e moltissime armi che fanno danno ad area, colpi lanciagranate, gli psionici che fanno l'ondina tipo quella del cacciatore, e per questo motivo dovete stare attenti a chi vi circonda dove si trovano i nemici e soprattutto a non stare troppo vicini perché sennò vi uccideranno insieme. La seconda difficoltà invece per quanto riguarda il boss vero e proprio è che, prima di tutto, la sua attacca corpo-corpo sciotta e anche se non siete vicinissimi state attenti perché è un po' infido, sapete no che non funzionano proprio benissimo gli attacchi ad area tipo quelli appunto dei caduti nel caso del Prelator Conte. La seconda sta nel tipo di scudo di questo boss, inizialmente sarà solare, quindi un qualsiasi lanciarazz come Chialarorn, uno a caso proprio, lo tirerete giù facilmente. Quando gli farete un po' di danno, questo boss metterà un altro scudo casuale, potrebbe rimettere quello solare, è vero, ma potrebbe anche mettere quello di vuoto o quello elettrico ad arco. Quindi per questo motivo il mio consiglio principale è di armarvi, o come team o come giocatore singolo, di un'arma per tipo. Le armi speciali non le utilizzerete molto perché comunque sarà molto lungo tirare giù lo scudo con un fucile a pompa, quasi impossibile, con un fucile a fusione o con un fucile di precisione. Quindi consiglio di mettervi, a livello di team, un Chialarorn e un Verità per avere giusto le armi pesanti che tolgono velocemente lo scudo nel caso di queste due tipologie di danno. Mentre per quanto riguarda il danno elettrico, o un qualsiasi lanciarazzi con danno elettrico, oppure consiglio di optare per le armi primarie. Anche qui, un a caso, la sorte è fatale perché seppur a 300 o 365 nel caso la veste è potenziata, perché grazie a questo danno elevato gli toglierete velocemente lo scudo e avrete tempo per infliggergli danni alla sua vita. Poi, detto francamente, in queste arene potrete usare le sintesi. Anche prendere il Chialarorn, mentre c'è lo scudo di fuoco, sparate un missile in più ma glielo togliete. Quindi non fatevi troppe menate, eh ma questa arma non è potenziata, va bene, lo stesso no. Se ce l'avete potenziate, tipo Verità così, va bene. Se no, anche il Chialarorn, comunque il boss non ha così tanta vita. Sparandogli tantissimi missili, come anche vedrete nell'eclipa sottofondo, viene giù in un paio di minuti. Il record per il momento ci ho messo 4 minuti 30, non pensando di fargli tutto quel danno l'abbiamo massacrato e via dalle palle. Tanto per farvi capire. E questo per quanto riguarda le armi da utilizzare. Per quanto riguarda invece il posizionamento nell'arena durante lo scontro, non pensavo lo avrei mai detto in una modalità proprio come l'arena. Sinceramente non pensavo l'avrei mai detto, ma prima di tutto mai stare tutti insieme. Come ho detto prima, i nemici fanno tanto danno ad area, rischiate soltanto di venire uccisi e morire tutti insieme. Anche se uno ha lo stregone, ok si rianima, ma può venire ucciso lo stesso una volta che si è rianimato. Quindi consiglio innanzitutto di stare tutti separati. Seconda cosa, non stare fermi, semplicemente perché i cabal tendono a mettersi lì davanti e poi continuare a spararvi finché non morite per tutte le esplosioni. Il mio consiglio è quello di partire all'entrata proprio. State lì, ammazzate qualche nemico, magari iniziate a ferire un po' il boss. Successivamente, quando vedete che i nemici si fanno tutti lì ammassati, iniziate a scappare. Noterete subito che, visto che i nemici si sono radunati tutti lì davanti a voi, le grandi aree di destra e di sinistra, proprio agli estremi della mappa, sono praticamente vuote e avrete tempo per ripararvi dietro delle coperture, usare eventuali sintesi, cambiare arma e questo è tutto ciò che dovrete fare nel corso di tutta la battaglia. Mai stare separati e continuare a muovervi. Essendovi separati, i nemici poi non verranno tutti su uno, tutti su un altro, cercheranno di dividersi. Ammazzate tutti quelli che riuscirete. Quelli con la vita rossa normale, una qualsiasi arma, qualche colpo in testa vanno giù. Per quanto riguarda invece i centurioni maggiori, quindi quelli con la vita gialla e lo scudo di fuoco, non fatevi problemi a usare anche le armi pesanti, perché sono veramente rognosi e da quello che ho avuto modo di vedere, sono più problematici del boss stesso. Quindi, ammazzate con calma i nemici. Quando le lacque si fanno un pochino più calme, quando ci sono meno nemici nella mappa, andate a cercare il boss e andate a saccagnarlo di botte e così via. Però mi raccomando, iniziate in un punto, arrivano i nemici, vi dividete, vi spostate, i nemici cercano di dividersi, ammazzate un po', se la situazione si fa troppo calda, vi spostate nuovamente, perché comunque l'arena non è la più piccola e non è nemmeno la più grande. È di media grandezza ed è una grandezza appunto sufficiente per permettervi di avere uno stile di gioco molto mobile, con molta mobilità, di non stare fermo in un punto e quindi non rischiare di morire. Una volta che avrete ucciso, secondo me in modo abbastanza facile, seguendo questa piccola strategia, il boss, potrete godervi la vostra meritatissima ricompensa. Quindi ragazzi, anche questo video volge il termine. Come al solito, vi ringrazio per la vostra attenzione, spero vivamente sia stato di vostro gradimento e vostra utilità. Vi invito dunque a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo al prossimo. Ciao a tutti!